come ti sei? perché con il backup guardate qua oh guardate qua oh ma? perchè io stai avvicinando vittorio si avvassa la moschettina vieni oh mance fermi lì che faccio di là girate di là dai 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 adesso per fare quella che di farlo dai si 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 ecco lì ecco lì ma non va a fincino ecco lì 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 No, no! Erano male. Erano male per la cosa... Hai! Cicchino per un eh! Più che vuole! Ciao! Grazie a tutti. 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 No, va bene. Grazie a tutti. 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 , a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . . , 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